Diceva importante consorziarsi anche se purtroppo ancora c'è poca cultura rispetto a questa possibilità. Un esempio citato anche nella copertina di presentazione è quello di Imprese del Sud, il progetto a cui parteciperà Malta. Allora chiedo innanzitutto al Presidente nazionale di presentarci questo progetto, quali saranno le possibilità che offre? Sì, noi abbiamo lanciato, forse siamo l'unica realtà associativa in Italia, abbiamo lanciato la partecipazione al prossimo Commonwealth Business Forum che è una kermesse di networking imprenditoriale che si svolge all'interno del convegno, della conferenza internazionale degli stati del Commonwealth britannico. Apro una parentesi, sono 2 miliardi e mezzo di cittadini e di consumatori che sono lievemente toccati dal nostro sistema industriale e produttivo e abbiamo deciso di partecipare, grazie anche alla disponibilità del governo maltese che ci ha concesso questa vetrina, abbiamo deciso di partecipare e presentare una nostra delegazione per dimostrare con i fatti, e non ahimè con le chiacchiere e con gli interessi di bottega così come è stato citato all'interno del servizio, di dimostrare che internazionalizzare non è un tabù, non è una sfida che non possiamo vincere, dobbiamo ovviamente rimodulare le nostre strategie imprenditoriali, accompagnare le imprese non ai convegni ma sui mercati in maniera concreta e cercare di sfoltire tutta quella platea di consulenti che gira intorno a questo sistema e che purtroppo ahimè non produce effetti possibili.